Questo è il secondo incontro di questo ciclo che abbiamo organizzato da qui al giugno del 2018 e dove presentiamo una serie di strumenti e parliamo di una serie di problematiche che si possono però efficacemente risolvere che coinvolgono le aziende, le PMI tipiche sul territorio con le quali noi lavoriamo. Dopo la sicurezza oggi parliamo di logistica, parliamo di magazzino, parliamo di organizzazione e ne parliamo con Gaia Informatica, una società con la quale collaboriamo da anni, con la quale abbiamo installato presso tante aziende e loro soluzioni che ci ha permesso di risolvere efficacemente tutte le problematiche collegate al magazzino e alla logistica. Da qualche anno le aziende hanno cominciato fortunatamente a capire che il magazzino non è più il garage di casa soprattutto per le piccole e le medie aziende e abbiamo cominciato a parlare di processi all'interno del magazzino e della logistica per risolvere i problemi che normalmente aziende di produzione o aziende commerciali non affrontavano da tempo. Sicuramente il processo del magazzino è importante e si riesce a efficientarlo e a guadagnare per quanto riguarda la margine e risparmiare costi per quanto riguarda l'organizzazione delle spedizioni. È da molti anni, circa una quindicina, che abbiamo affrontato il problema della logistica soprattutto perché le aziende avevano visto che il magazzino diventava a diventare un costo e anche tutto messo alla rifusa. La tecnologia ci ha permesso di riorganizzarle, di abbattere costi anche sull'ordine del 30%. La tecnologia ci ha permesso di riorganizzarle, di abbattere costi anche sull'ordine dell'organizzazione delle spedizioni. Grazie a tutti.